C'era una volta un piccolo paese, il piccolo presidente del piccolo paese era Tony Mafioso. Dopo una notte di sogni inquieti, Tony Mafioso si svegliò, trasformato in donna. Gli era cascato il pisello, Tony Mafioso lo cercava ovunque, sotto il cuscino come il dentino del topolino, sotto al letto medesimo, niente, si era perso. Cerca pure di ricordarci dov'è che l'aveva utilizzato per l'ultima volta, ma niente, non gli tornava la memoria. Così Tony Mafioso montò in macchina, corse dal suo medico, il medico lo analizzò, lo visitò, sopra, sotto, dentro, fuori. Alla fine il medico gli disse, caro Tony Mafioso, a parte questa inspiegabile metamorfosi, per il resto sei una donna, ma sei una donna sanissima. Sì vabbè, disse Tony Mafioso, ma io voglio essere un maschio, un uomo. Guarda, gli disse il medico, che essere donna è una condizione, non è mica una malattia. Peggio, disse Tony Mafioso, peggio di una malattia. Dal piccolo paese abbiamo fatto il possibile e l'impossibile per trasformare la donna in un oggetto de consumo, una lavatrice, una lavastoviglia, un flipper. Oggi l'unica differenza tra una donna e una bambola confiabile è unicamente nel fatto che sulla donna posso spegnere le sigarette senza farla scoppia. Va bene, io rivolgo il pisello. Tony Mafioso montò in macchina e corse dal suo vecchio compare, Tony Corrotto, che una volta stavano insieme al governo, ma si erano litigati, ma Tony Corrotto era l'unica persona decente che Tony Mafioso avesse incontrato nella vita. Tony Mafioso arrivò a casa di Tony Corrotto e lo trovò che camminava sui tacchi a spillo. Pure tu, disse Tony Mafioso. Anch'io, disse Tony Corrotto. Stamattina mi sono svegliato, che mi era cascato il pisello, c'è avuto una crisi isterica. Poi fortunatamente sono scesa, mi sono comprata sei paio di scarpe, una borsetta di coccodrillo, ma adesso sto un po' meglio. Tony Corrotto e Tony Mafioso partirono e rimissero insieme la vecchia combriccola. Arrivò Tony Camorrista, Tony Puzzolente, Tony che cazzo guardi, Tony c'ho il culo attaccato alla poltrona. Tutti, qualcuno certo più simpatica, qualcuno più antipatica, ma tutti. Certo qualcuno più alta, qualcuno più bassa, ma tutti si erano trasformati in donne. Chiamarono uno psicanalista, il quale disse la scienza non può spiegare questa metamorfosi. Ma per la psicanalisi la risposta è facilissima. Il pene è simbolo del potere, è una sorta di scettro, e quindi averlo perso, accettare di perderlo, è un po' come abdicare, come lasciare il potere, è una cosa bellissima. La psicanalisi gli disse, vi può aiutare ad accettare questa vostra nuova condizione, ma chi la farà accettare ai vostri sudditi? Così Tony Maffioso, Tony Corrotto e tutti gli altri se ne andarono dal piccolo capo, dalla piccola chiesa, dal piccolo paese. Che era uno che normalmente andava vestito con delle tonache, dei vestaglioni, dei gonnoni, insomma. Però quella volta lo trovarono con una gonna inspiegabilmente corta, tagliata sopra il ginocchio. Era diventato una papessa bellissima. Allora il piccolo capo della piccola chiesa, chiamò Tony Corrotto, Tony Maffioso, tutti gli altri, si affacciarono alla finestra, c'erano i sudditi sotto che rimasero a bocca aperta, ma il piccolo capo della piccola chiesa disse, sorelle e fratelli, donne, uomini, maschi, femmine, gay, trans, lesbo, eccetera, eccetera. Io voglio parlare a tutte e tutti, senza distinzione di sesso, comportamento sessuale, di genere, eccetera, eccetera. Io vi voglio dire che noi, rifiutando il sesso maschile, rifiutiamo la sua storica violenza. Rifiutiamo la galera, il tribunale, il campo di sterminio, la fabbrica, la guerra, la caserma. E alla famosa domanda del celebre scrittore, noi rispondiamo che se questo è un uomo, noi non vogliamo più esserlo. Io vi dico che non so se esiste Dio, ma se Dio c'è, come è stato detto, è padre e madre, e dunque anche sorella, figlia, cugina, zia, nipote, vicina di casa, eccetera, eccetera. E dunque il suo unico comandamento è l'amore. Io potrei avere una fede che smuovere montagne, ma senza l'amore sarei nulla. L'ha detto San Paolo, mica il suo capanna, insomma, significherà pure qualcosa. E quindi vi dico che il suo unico comandamento è l'amore. Amate, amatevi, quanto vi pare, dove vi pare, con chi vi pare. Quel giorno nel piccolo paese si convertirono tutti, pure i sassi. Ma c'era una volta un piccolo paese. Il piccolo presidente del piccolo paese era Tony Mafioso. Dopo una notte di sogni inquieti, Tony Mafioso si svegliò, si portò le mani alla patta dei pantaloni, del pigiama ed era tutto a posto. Il suo pisellino stava lì, aveva fatto solo un brutto sogno, che sarebbe potuto essere un passo avanti per l'umanità e invece era solamente un piccolo incubo di un piccolo despota. Tony Mafioso aprì gli occhi e davanti a sé trovò la sua cameriera 18enne in topless che gli portava la colazione dicendo «Bonjour», Tony Mafioso gli disse «Cara, ma che parli il francese?» Lei rispose «No, presidente, questa è l'unica parola che conosco in straniero». «Bene», disse lui, «Sarai il mio nuovo ministro degli esteri». Grazie.